Facciamo un'istantanea di SIA. A me piace definire SIA come uno solution provider, in quanto in grado di ideare, progettare, realizzare e anche gestire soluzioni che siano essi servizio e infrastrutture. SIA si occupa principalmente di quattro aree di business, parliamo di pagamenti, monetica, di capital market e di servizi di rete. I nostri principali clienti sono le istituzioni finanziarie, le banche centrali, le corporate, le imprese e la pubblica amministrazione. Ecco, vediamo un attimo il progetto che avete presentato a questa giornata, quali sono le esigenze da cui hai partito e vediamo come si innesta il tema dell'open source in questo progetto. Riprendendo un po' quello che è la filosofia di base dell'open source day e la traccia che ha voluto dare Gianni Anguilletti in questa edizione, SIA in collaborazione con Agile Lab presenta un progetto open source chiamato WASP, WASP che è l'acronimo di Wide Analytics Streaming Platform. Che cos'è il WASP? Il WASP è un framework che facilita l'implementazione di soluzioni nell'ambito streaming big data e facilitando quello che è la definizione di un'architettura big data permette agli sviluppatori che vanno a implementare il requisito di business in maniera più veloce, più rapida, senza doversi diciamo dedicare quelli che sono i dettagli della soluzione ma dedicandosi al creare valore basato ovviamente sui dati. È un progetto già sviluppato, a che punto siamo e quali gli sviluppi futuri? Allora è stato sviluppato principalmente da Agile Lab come dicevo prima, noi siamo da poco contribuiamo anche noi al progetto, è stato rilasciato open source a settembre e c'è molto fermento, ho visto anche oggi durante il convegno che c'è stato molto interesse, quindi la nostra idea adesso è quella di allargare il numero di contributors in modo da incrementare le funzionalità del framework e allo stesso tempo lo stiamo adottando in contesti pratici di business in particolare in SIA sono stati attivati in parallelo tre iniziative, una nell'area capital market, una nell'area di pagamenti e l'altra invece nella cyber security. Grazie a tutti! Grazie a tutti!